Buongiorno, sono Beppe Sardi del ristorante Grappolo di Alessandria. Vi vado ora a preparare un risotto alle mele golden con prosciutto di San Daniele mantecato al pecorino sardo. Gli ingredienti per 4 persone sono 380 g di riso carnaroli, 100 g di mela golden, 50 g di prosciutto di San Daniele, 50 g di pecorino sardo, un pizzico di prezzemolo tritato, un piccolo scallogno tritato molto fine. Per sfumare, un bicchiere di vino rosato, sale pepe e olio quanto basta. Per il brodo vegetale, sedano, carota, cipolla, alcune foglie d'alloro e olio extravergine d'oliva. Mettiamo l'olio nella padella e lo faccio in padella perché amo molto fare il riso nella padella. Il risotto va fatto in recipienti piuttosto larghi e bassi per poter controllarlo e perché possa cuocere tutto molto omogeneamente. Facciamo scaldare bene l'olio e andiamo ad incorporare lo scallogno tritato molto finemente. Bene, lo scallogno risulta appassito, prendo il riso e vado ad incorporarlo. La tostatura che sta avvenendo vuol dire proprio riscaldare il chicco per far sì poi che l'amido possa uscire durante la cottura del risotto pian piano. E' caldo e vado a mettere il vino rosato che bisogna fare evaporare completamente. Prendiamo il mestolo e andiamo ad incorporare il brodo vegetale. Ne mettiamo solamente il sufficiente da poter coprire il riso. Aggiungiamo nuovamente un po' di brodo e solamente a questo punto andiamo ad incorporare la mela che abbiamo tagliato a piccoli cubetti. Metà cottura e iniziamo a salare leggermente. Ricordiamoci che abbiamo poi il prosciutto e perciò è già salato di suo. Abbiamo superato la metà cottura del riso, perciò possiamo mettere il prosciutto di San Daniele tagliato a pezzetti. Il nostro risotto ormai è pronto per essere mantecato. Prendiamo il pecorino sardo, lo incorporiamo, giriamo per poter amalgamare il bene tutto e fare in modo che il formaggio non cuocia. Il risotto è pronto ad essere impiattato. Un po' di prezzemolino giusto per il colore. Sopra andiamo a spolverare con del pepe macinato. Un po' ancora di pecorino sardo. Il nostro risotto è pronto con le mele golden, sapore di intorno conat e pecorino sardo con del prosciutto di San Daniele. Il nostro risotto è pronto.